allora ciao ragazzi io sono riccardo bentornati nel mio canale youtube scusatelo ma un pochettino ribelle un cane da guardia quindi quando nota qualcosa di strano interviene baia allora cos'è questo oggettino così strano con la forma di un faccione di un cane di un meagle per l'esaltezza è una telecamera di sorveglianza è una telecamera particolare perché gli hanno dato questa forma proprio perché fa la guardia riesce a sorvegliare diverse cose io l'ho utilizzata sia come telecamera di video sorveglianza che funziona sia con gli infrarossi che con la luce quindi possiamo vedere la sia colori che mi anche nero e ci permette di tenere sotto controllo diversi dispositivi nasce viene progettata proprio tipo 8 print per poter controllare le stampanti 3d potere realizzare dei meravigliosi time lapse ma io l'ho utilizzata per tantissimi motivi addirittura per controllare il pappagallino sapete abbiamo preso un piccolo pappagallo e quindi per tenerlo d'occhio i primi giorni l'ho puntata insomma riuscivo a osservarlo l'ho utilizzata per tenere sotto controllo il mio cagnolino tenere sotto controllo le stampanti gli incisori laser insomma una telecamera completa che ci dà delle funzioni spettacolari per quanto riguarda il mondo della stampa 3d quindi ora vi faccio vedere tutti i suoi funzionamenti le carte liste che insomma funziona pure con un power back è leggera piccola quindi si può posizionare dappertutto si può anche fissare a parete quindi davvero molto comoda e pratica da utilizzare con circa 70 euro perché il suo posto diciamo originale quello però in base alle promozioni e le offerte in questo periodo dovrebbero esserci pure delle promozioni si può risparmiare qualcosina spero di ottenere anche un codice di sconto ma sto parlando tantissimo quindi voglio farvi vedere questo piccolo cagnolino come si comporta e quali sono le sue funzioni zampa seduto cuccia no questi comandi non li segue ma ne segue tanti altri quindi guardiamolo e allora innanzitutto apriamo la confezione sulla quale troviamo un'illustrazione poi il produttore mintion è una beagle camera come abbiamo detto riesce a fare la guardia quindi questo nome e questa forma ci stanno benissimo all'interno troviamo un manuale di istruzioni poi troviamo anche cavetterie eccetera troviamo pure un caricabatterie per poterla alimentare anche se io ho utilizzato un altro caricabatterie si può utilizzare quello di un cellulare tranquillamente il cavo usb per poterla collegare eventualmente alla stampante eccetera ma guardiamo direttamente il prodotto allora facciamo una cosa guardiamolo mentre è acceso quindi quindi in questo caso la stiamo alimentando da questa parte è acceso il led rosso tra poco si accenderà anche il led avete visto di colore verde comunicherà che si collega al wifi allora nella parte frontale abbiamo l'obiettivo grandangolare nella parte posteriore abbiamo la presa usb che serve a collegarla alla stampante infatti si utilizza il classico cavo che si utilizzerebbe per poterla collegare al computer ma in questo caso dovremmo collegarla direttamente a questa presa e i file vanno inseriti all'interno di questa micro sd e quindi poi sceglieremo dall'applicazione oppure dal computer i vari file da stampare nella parte posteriore abbiamo la possibilità di fissarla a parete ma esistono anche diversi file si trovano facilmente gratuitamente anche su thingverse per poterla installare direttamente sulla stampante 3d quindi utilizzarla con diverse angolazioni in base a quella che preferiamo quindi l'applicazione si chiama beagle print ci sono pure i codici qr ultimamente l'utilizzata anche ecco guardate con un incisore laser per tenere d'occhio la stampa già come vedete è connessa risulta alla scritta online però non è connessa alla stampante infatti printer disconnected se io clicco qua ho l'inquadratura di quello che la telecamera riesce a vedere e abbiamo la possibilità di vederlo sia in alta che in bassa definizione considerate che la velocità di connessione e la qualità della trasmissione dipendono sempre solo dal segnale wifi che avete in casa e io come sapete in questo angolo anche se ho un ripetitore quindi il segnale wifi al massimo purtroppo non ho una connessione di buona qualità quindi in questo momento non riesco a ricevere il segnale nel modo corretto prova a disconnettermi e riconnettermi vediamo se migliora un po con la situazione ok ragazzi ho cambiato connessione quindi sono riuscito a collegarmi alla nostra telecamera anche se la trasmissione del segnale non è velocissima però guardate come riesce ad inquadrare a un angolo molto ampio e da questo comando possiamo decidere sia se ribaltare l'immagine se creare uno screenshot se ascoltare o meno tramite l'altoparlante il microfono e quindi anche di vederlo in alta risoluzione e allora ragazzi come vedete ho problemi di connessione continua a lampeggiare la spia verde del wifi non riesco a connettermi nemmeno con il telefonino ho provato ad aprire youtube insomma anche google non riesco a navigare il wifi purtroppo in questo periodo mi sta dando seri problemi infatti devo recensire anche tanti altri dispositivi che funzionano tramite wifi sto rinviando allora a questo punto vi faccio vedere tutto quello che ho registrato per fortuna ho fatto tutte le registrazioni in anticipo ho fatto anche delle registrazioni sul display quindi una registrazione dello schermo in cui si vedono tutti i vari comandi che ho dato insomma riuscirò comunque a farvi vedere il suo funzionamento anche se con le registrazioni già presenti sui miei dispositivi quindi proseguiamo allora iniziamo guardando le riprese più semplici quindi possiamo utilizzarla come una normalissima telecamera di videosorveglianza sia per tenere sotto controllo animali domestici bambini anziani per tenere sotto controllo i nostri ambienti in generale di giorno di notte eccetera ma in questo caso la sto utilizzando su una stampante 3d e in questo caso voglio farvi vedere come si può utilizzare semplicemente come telecamera anche se non sfruttando la funzione che ci permette di utilizzare la nostra stampante 3d a distanza quindi questa è una ripresa classica che come vedete ci permette di fare una normale registrazione quindi in questo caso sono semplicemente filmando ma abbiamo la possibilità anche di utilizzarla come telecamera come dispositivo che possa comandare la nostra telecamera e dare diversi parametri come ad esempio impostare le temperature in questo caso ho impostato una temperatura di 240 gradi per quanto riguarda il nodo come vedete c'è il picco delle varie temperature raggiunte la possibilità di vedere in tempo reale il processo di stampa e abbiamo la possibilità di registrare quindi di vedere in diretta quello che la nostra stampante sta facendo come vedete qua abbiamo una temperatura impostata dai 200 gradi per quanto riguarda il nodo le 50 gradi per quanto riguarda il piatto di stampa procedendo nella schermata successiva abbiamo la possibilità di dare i comandi per il movimento degli assi sia per l'asse x e y che per quanto riguarda l'asse z possiamo anche decidere di quanto deve spostarsi possiamo anche decidere sull'estrusore se far restrudere oppure ritirare il filamento e di quanto eventualmente fare questo spostamento andando ancora più avanti nella schermata successiva abbiamo invece i comandi per quanto riguardano i file da stampare basta semplicemente premere sull'icona forma di stampante procedendo ancora in avanti come vedete abbiamo ancora alcune informazioni in questo caso stavo utilizzando la stampante elego neptune 2s e ci dà tutti i dati per quanto riguarda il piatto di stampa insomma le varie informazioni sulla stampante e andando ancora avanti abbiamo diverse impostazioni ora voglio farvi vedere però la qualità di registrazione in questo caso è in bassa definizione ma voglio farvi vedere come cambia in modo molto significativo dalla bassa all'alta risoluzione vedete si vede tutto un po leggermente sgranato quindi in basso c'è l'icona con scritto sd andando ancora avanti a un certo punto io cambio da bassa alta definizione guardate che differenza come si vedono tutti i dettagli faccio una zoomata così riuscirete a vederlo sicuramente meglio allora questa è l'alta definizione e questa invece la bassa definizione guardate come cambia un po tutto anche il cablaggio nella parte posteriore quindi per poter tenere sotto controllo i nostri ambienti diciamo come tipo di telecamera è ideale e ovviamente può essere utilizzata come potete vedere da alcune inquadrature che metterò anche per l'utilizzo degli incisori laser eccetera e funziona pure di notte quindi ci permette di utilizzarla anche al buio se vogliamo utilizzarla come baby monitor possiamo piazzarla per esempio sopra la culla del nostro bambino e osservarlo mentre dorme questa è un'altra ripresa sempre realizzata il 21 ottobre della realizzazione di un vaso in questo caso è semplicemente una ripresa quindi si vede il movimento del nodo ma i file che si riescano ad ottenere con questa telecamera sono davvero eccezionali perché crea dei timelapse nei quali non si vede il movimento dell'otend quindi una volta scaricato il file potremmo ottenere semplicemente questo risultato che per me è eccezionale guardate lo tende praticamente sembra sempre fermo al suo posto e vedremo il nostro progetto il nostro pezzo che si va creando guardate che meraviglia quindi dei timelapse davvero bellissime la testa in laps si possono ottenere solamente quando è collegata con una stampante 3d perché sfrutta il movimento dell'otende per dare il comando di quando scattare la fotografia per creare il filmato e anche per quanto riguarda la registrazione dei filmati possiamo decidere se realizzarli con una definizione più o meno alta con uno oppure con un altro formato in modo adeguarla alle nostre esigenze e ovviamente anche fuori posso tenere d'occhio la stampante 3d e controllare se tutto va bene se è il caso casomai interrompere mettere in pausa eccetera e allora in questo caso per esempio lo stavo utilizzando per tenere sotto controllo un incisione con un incisore laser come sapete gli incisori non vanno mai lasciati da soli quindi bisogna sempre sorvegliarli ma nel caso in cui sia necessario allontanarsi per un attimo allora si può ottenere sotto controllo e vedere se è tutto a posto guardate anche in questo caso la differenza di qualità tra una ripresa a bassa definizione quindi sd è una ripresa invece in alta definizione come cambia tutto l'immagine nella parte posteriore quindi questa incisione in bassa risoluzione quasi non si riconosce e in alta definizione riusciamo a cogliere tutti i dettagli quasi pure le scritte sul modulo laser ma si può utilizzare anche tramite computer non è necessario utilizzare per forza l'applicazione si può accedere tramite computer inserendo il codice ip che viene fornito direttamente dalle impostazioni e riusciamo a vedere qual è il codice ip a cui è collegata la nostra telecamera che tra l'altro sembra che si sia connessa quindi forse posso farlo vedere direttamente se andiamo sulle informazioni della nostra telecamera abbiamo un codice ip digitando questo codice ip riusciamo ad accedere a un browser che ci dà la possibilità di dare tanti comandi in quel caso riusciamo pure a vedere il pezzo in 3d abbiamo tante funzioni in più che effettivamente ci permettono di comandarla ed utilizzarla nel pieno delle sue funzioni sfruttandola praticamente quasi con le stesse impostazioni viene arricchito di pochissimo come appunto la visualizzazione in 3d qualche comando in più ma abbiamo comunque una visione molto più grande possiamo anche vederla a schermo intero queste sono le impostazioni per quanto riguarda la registrazione queste invece sono le informazioni per quanto riguarda il time lapse possiamo decidere di utilizzare un codec mpeg oppure un codec hs24 io con questo codec sono riuscito a scaricarle tranquillamente anche col telefonino invece gli mpeg non sono riuscito poi abbiamo anche la possibilità di aggiornarlo in questo momento io l'ho aggiornata alla penultima versione da un paio di giorni è stata rilasciata l'ultima quindi possiamo semplicemente aggiornarla anche dalla stessa applicazione vi metterò eventualmente qualche inquadratura durante la fase di aggiornamento alla versione attuale e poi abbiamo anche la possibilità di condividere con degli amici però in questo caso come vedete si è disconnesso nuovamente perché li vuoi fare il segnale va e viene quindi abbiamo la possibilità di condividere con altri amici la possibilità di vedere quello che la nostra telecamera sta riprendendo e allora ragazzi quindi il nostro cagnolino il nostro beagle come avete visto ci permette di poterlo utilizzare sia come telecamera di sorveglianza per gli ambienti in generale per i nostri dispositivi scopo per cui viene progettato per cui nasce e funziona il compito che svolge diciamo in modo egregio quindi un vero e proprio cane da guardia perché ci permette di tenere sotto occhio le nostre macchine mentre sono in funzione io vi lascerò il link se mi riesce cerco pure di farmi dare un codice di sconto in modo che eventualmente potete acquistarla anche se non avete una stampante 3d ma avete comunque bisogno di una piccola telecamera compatta che una volta ripiegata insomma occupa pochissimo spazio che è possibile fissare in diverse posizioni anche con una pinza si può mettere per esempio sul bordo della colletta eccetera quindi una telecamera davvero molto versatile vi lascio nel link guardate tutte le varie caratteristiche sul sito se pensate che possa esservi utile eventualmente procedete con l'acquisto io vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo vi invito ad iscrivervi al mio canale e mettere mi piace e quaggiù cliccando sul pollicione lì su cliccate sulla campanella per attivare notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto